Sono partiti in settimana i sondaggi archeologici sull'area dell'ex Bramante per dare una seconda vita all'enorme contenitore vuoto che da anni si staglia fra centro e mare su largo Aldomoro. Sono già stati firmati i compromessi fra un soggetto privato e cassa depositi e prestiti per un'opera di recupero dell'immobile con due piani sotterranei destinati a un centinaio di parcheggi e tre piani destinati a civili abitazioni. Un progetto che ha oneri di urbanizzazione strettamente legati a quell'idea della rambla con l'interramento della statale fortemente voluto da Matteo Ricci per creare un'unica lunga e ininterrotta passeggiata pedonale da Piazza del Popolo alla Palla di Pomodoro. Idea che finora è rimasta sulla carta e che potrebbe essere rimodulata perché il sindaco Biancani ha chiesto di valutare una seconda soluzione quella della creazione di un grande sottopasso ciclo pedonale largo come tutta Piazza Aldomoro con la possibilità di creare anche dei locali. Al momento le cifre dell'operazione prevederebbero 4-5 milioni per l'interramento della statale da valutare la portata economica del secondo progetto.